Bella a tutti ragazzi, sono CioGuin01 in questo nuovissimo video in cui saluto i miei fans. Appena mi sa, vorrei fare il congiuntivo, raccendo il mio nemico e la mia amica Belazza. Saluto da Roberto Mister, Loredana Correndo, Tony F, Francesco Rassisi, Filippo Giai, Larry Cave, Vittorio Orgina, Giovanni Cermele, Giorgisco, Matteo Catella il coglione, Fede Massari, Pietro Caviasso, Matteo Fusco, Filippo Brignolo, Bosticcio, Pietro Condigirno, La Gang, Ettore Grimaldi, CioGuin0189, Guillermo, Mantovan, Leandro, Mosso, Matteo Palanca, Nicosema, Renato Nicosia, Andrea Serrone, Francesco Corriale, Tommaso Tropeano, Sciacca, prossimo amico Monelli, buon compleanno, buon compleanno, Luigi Maccari, Davide Barone, il sommo Luca Marino, Simo Rova 32, il giugno Adolf, poi i miei occhiali, mia mamma, il mio gatto, durante il tempo dei messiani, Silvio Berlusconi, Elvio De Michelis, il mio amico Napo Gay, un nome che non mi ricordo, Baggis, tutte le fighe del mondo, il mio grandissimo amico Enzo Dong, Domenica La Pianta, tutti i miei haters, cuoricini, il parato di Brazers, Boromoro, Sfere Basti, Mantide, Ipadivision23, Rassi, il mio hate, Amoros, Coglio Naso, Matteo Rossi, Oddino, Gabriele Schiavetti, Davide La Kispur, Marco Echiera Manfredi, Marco Borriello, Poi, Chevi Lasagna, Cerva Pienza, Alessia Mercussi, Barbara D'Urso, Gerizzo Socchi, Bello Figogu, Uttan Bicitum, Utti Capicciulla, qualcuno a caso, vicino di casa Segone, saluto Antonino, Vado a Lippen, Professor Sadamato, Fede Peter, e poi Sai Babur, che è uno che mi ha scritto ieri, poi la squadra di accompagnatori solo, Muzona, Jack Lebrio da bruciare, Leo Fantini, Tommy Fantini, Eugen Nardi, Alestrasso, Chimo Burton, Lollo Frau, e tutti gli altri amici di Gulli, me stesso, io, tu insulti me, io ti spammo due miei messaggi a te, io, sei un bebe, fai di meglio se ci riesci, io, arrivederci.